buongiorno a tutti ragazzi qui è sem che vi parla benvenuti in questa nuova rubrica chiamata storytelling dove vi racconterò le storie che trovo sul web la storia di oggi è una storia horror quindi per goderselo al meglio vi consiglio di mettervi in un posto buio mettervi delle cuffie alle orecchie e ascoltare perché questo sarà una specie di audio libro anche se è solo una storia la storia che cominceremo oggi è divisa in cinque capitoli che io dividerò appunto in cinque episodi spero vi piaccia ma direi subito di cominciare gli eventi accaduti negli ultimi giorni hanno scosso la mia concezione del mondo e mi hanno lasciato con un animo affrante perplesso eppure sento che devo riorganizzare questi fatti nella mia mente sento che sono costretto a ricostruire quelle terribili cose che ho visto per poterle capire meglio per far sì che la mia mente finalmente si riposi ho bisogno di valutare bene ciò che è successo è stato del tutto per caso che incontrai un certo john r era primavera i primi crochi erano resistiti bene alla gelida sottomissione dell'inverno ero alla ricerca di un articolo da scrivere per una pubblicazione che era per così dire meno che rispettabile quando mi ritrovai in un piccolo villaggio sulle highland verso sera tutto quel calvario era frustante per non dire peggio avrei dovuto essere di nuovo a glasgow per quella notte per poter riscrivere i miei appunti e spazzare via i dubbi che spesso accompagnano i miei iscritti rimanere bloccato in un piccolo villaggio con una malapena una strada e un pub che pareva non essere stato sistemato da eoni non era proprio la mia idea di alloggio confortevole soprattutto dopo un paio di settimane di costante viaggio di interminabili interviste e più di una notte senza riposo in uno squalido bed and breakfast vi era stato un piccolo cedimento del terreno in una città il quale aveva reso impossibile l'avanzamento del bus locale e cosa più importante per me e riportarmi in salvo dopo diverse telefonate tentando di procurarmi un mezzo di trasporto alternativo divenne evidente che non sarei andato da nessuna parte fino al mattino successivo l'addormentato pub affettuosamente intitolato the lord of dongort sembrava che mi stesse per cadere addosso da un momento all'altro completo di travi di legno deformate e di clientela altrettanto burbera sarebbe stato il mio alloggio per la notte dopo aver discusso con il proprietario un uomo alto che doveva aver ormai raggiunto la cinquantina mi venne gentilmente assegnata una piccola camera al piano superiore in cui evidentemente nessuno aveva dormito e pulito per un bel po di tempo nonostante tutto la gente li era il quanto piacevole e dopo aver mangiato un po di cibo locale delizioso mi sono detti su una confortevole poltrona vicino a un vecchio caminetto del pub decidendo di ammazzare la noia con qualche pinta di birra locale e una bottiglia di vino le fiamme avanzavano tutti intorno a me e mentre la notte avanzava e l'intorbidimento dell'alcol iniziava a fare effetto ero davvero di buon umore quasi felice di essere circondato da un ambiente rustico il paesino avrebbe potuto essere un po squallido ma con il freddo vento esterno e con un cielo sempre più occupo la locanda acquisiva un certo fascino non sono sicuro di quanto tempo rimasi lì seduto ipnotizzato com'ero dal calore proveniente dal caminetto e da qualche bicchiere di rosso ma fu evidente che un altro ospite della locanda si unì a me si sedette di fronte a me su una larga e logura poltrona dall'altra parte del caminetto si sedette lì a fissare le tremolanti fiamme sembrava essere un animo curioso esteriormente appariva essere relativamente giovane probabilmente sulla trentina ma il suo personaggio aveva un'apparenza fragile cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovare in un uomo della sua età il suo volto veniva illuminato dalla luce del fuoco rivelando i lineamenti preoccupati che suggerivano agitazione i suoi occhi fissavano un punto fisso spenti e le sue mani tremavano mentre cercava di riscaldarle con le braci c'è qualche problema o di quelle parole ma non le registrai finché non mi vennero ripetute scusami c'è qualche problema l'uomo si rivolse a me in modo brusco e venni preso alla sprovvista nel realizzare che ero rimasto a fissarlo per svariati minuti no nessuno rispose in tono di scuse io credevo di conoscerti mentre si voltò verso di me mostrò un'espressione incredula davanti alla mia evidente bugia ma per fortuna non senza una nota di divertimento mi scuso se sono stato un po brusco con te disse è solo che sono davvero stufo delle persone che continuano a guardarmi qui in giro alzò la sua voce al termine della sua frase e lanciò un'occhiata intorno al bar verso quei pochi bevitori furtivi che lo popolavano sentivo che i presenti volevano ora evitare il suo sguardo ci svagammo in un'ora di chiacchiere il suo nome era john r ed era un amministratore di londra affermò di essere lì per valutare una zona vicina il quale agricoltore aveva intenzione di svendere per migliorare le sue proprietà ma capì subito che non era a suo agio nel parlare del suo lavoro infatti cambiò rapidamente il tema della conversazione portandolo a me il mio lavoro la mia vita la mia famiglia tutto sembrava come se avesse bisogno di continui discorsi per mantenere distratta la sua mente dall'ansia che nascondeva ogni volta che tentavo di porre una domanda su di lui o sulla sua vita o forniva una o due parole di risposta o le ignorava completamente trasformando il tutto in una sua domanda nei miei confronti alla fine la conversazione giunse a una sua conclusione come spesso accade quando parlare solo un partecipante e per un momento rimanemmo seduti in completo silenzio gli unici suoni provenivano dalle persone che si appoggiavano al bancone e di discontinui tintini dei bicchieri vuoti che venivano puliti e lavati dal proprietario ora il pub aveva le luci notevolmente abbassate la maggior parte della luce veniva fornita da un paio di piccole lampade dal fuoco che continuava a crepitare e tremolare da tutta la sera mi voltai verso una delle finestre vedendo nient'altro che oscurità poi le parole uscirono dalla mia bocca senza che ci pensassi senza sforzo perché le persone ti fissano john ci fu una lunga pausa e lo osservai mentre attendevo la risposta i suoi occhi si erano focalizzati sul pavimento il suo volto era impresso con la preoccupazione non mi aspettavo una risposta dettagliata e brusca come la precedente conversazione così continuai a bere il mio vino quando improvvisamente rispose in tono cupo tutti lo sanno ma nessuno ha il coraggio di parlarne voltandosi verso quei pochi bevitori rimasti di seguito urlò hanno tutti paura la risposta da parte del padrone e dei suoi clienti abituali fu inconsuetamente muta sembrava in ignorare completamente le accuse di john ebbero solo una breve esitazione nei loro movimenti che provava loro avessero in realtà sentito tutto lo sfogo non mi aspettavo una risposta così esplosiva ma in quelle urla non c'era disperazione bensì rabbia e frustrazione poi guardandomi dritto negli occhi poi lui aprì le sue labbra come per riprendere a parlare non prima di aver esitato capì che in fondo quell'uomo desiderava liberarsi di un peso come se parte di quei tossici pensieri torbasse la sua anima come scrittore la mia curiosità venne attirata dalla possibilità di conoscere un racconto coinvolgente forse addirittura un racconto che avrei potuto utilizzare come base per un mio futuro articolo prevedendo che ora lui avesse solo bisogno di un'ultima lieve spinta per portarlo a confidarsi con me mi chinai verso di lui e sussurrai un cos'è pieno di contrastanti sentimenti sentivo che stavo per venire a conoscenza di qualcosa di importante ma dal comportamento di quell'uomo temevo cosa quel qualcosa potesse essere passo qualche attimo e parve come se l'intera stanza fosse caduta in un silenzio e un'oscurità palpabili le persone attorno si accingevano ad ascoltare dagli angoli bui e poco invitanti poi parlò se fossi così gentile da condividere un po del tuo vino con me sarei lieto di poterlo dire disse a bassa voce non servilo ripetesse una seconda volta mi alzai dalla poltrona e chiese al banco una bottiglia e un secondo bicchiere per poter condividerla con il mio compare c'era una certa titubanza mentre il padrone della locanda prendeva entrambi gli ordini dallo scaffale dietro di sé posandoli poi di fronte a me come ritornai al mio posto seppi che adesso i presenti stavano guardando a me e senti fin dentro le mie ossa e loro sguardi c'era qualcosa di davvero disagiante in essi sguardi bui accusatori immersi nella paura versai un bicchiere di vino che john beve in un unico sorso segno che riconoscevo bene di un uomo che sta negando in un male bruciante sta venendo consumato dopo aver gli versato dell'altro appoggia la bottiglia fra di noi in attesa che iniziasse a raccontare la sua storia dopo aver guardato verso il suo bicchiere per qualche altro istante sollevo il capo guardandomi intensamente negli occhi mentre il fuoco continuava a crepitare e sfavillare poi come se dovesse esorcizzare quel peso sulla sua anima iniziò e questa era una delle cinque parti di questa storia vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale per avere tutte le notifiche sui prossimi video e anche sul continuo di questa storia se vi è piaciuta io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video ciao